FANTASTICO! OH SII! Grazie! Non c'est ça! Je vaux! Non c'est ça! NON Grazie a tutti. Mangiare fa bene. Mangiare fa decisamente bene. Mangiare fa bene. Oh, sì! Grazie! Grazie a tutti. 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 Buio, fetido, umido, il posto ideale per un clan di topi. Grazie a tutti. Presto, guarda come si possono utilizzare le faccette. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non immaginavo che fare lo chef fosse così complicato. Oh, pericoloso. 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 Bene, bene. Fantastico! Amo vivere la vita! Non è vero, non è vero. non c'è nessuno Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Avanti, Remy, sbrigati. Mi sto sbrigando. Il cibo è nella cella frigorifera. Va in cucina e trova gli altri topi. Ti diranno che cosa fare. Vuoi che prenda del cibo? Non è una cosa ben fatta. Figliolo, è per il clan. Per il clan, lo so, papà. Ricordati di trovare gli altri topi. Prova a cercarli con l'olfatto.